Di qualche giorno fa la notizia del triste primato di Arezzo, maglia nera per l'accesso al credito in Toscana. A lanciare l'allarma è stata Confartigianato Arezzo che mette i puntini sulle I con banche e Stato che devono sostenere le piccole e medie imprese. Gli istituti bancari devono cominciare a vedere l'azienda come un qualcosa che è anche il loro futuro e lo rimane, lo è sempre stato e lo rimarrà. Non solo l'aiuto statale, ma l'aiuto statale deve essere riversato per far sì che questa cultura dell'impresa non vada perduta. Non ci dimentichiamo che lo Stato è il nostro socio di maggioranza, è colui che prende oltre il 60% dei nostri utili. Soltanto noi ci siamo trovati nella situazione che quando abbiamo avuto la necessità anche di rifinanziare la nostra attività per mantenere l'occupazione, per mantenere comunque la nostra dignità di persone consapevoli di poter produrre per se stessi ed essere utili a se stessi e a chi hanno vicino, ci siamo trovati molto spesso questa diffidenza e quel socio di maggioranza che prende la maggioranza dei nostri utili non ci è stato vicino in questo frangente. Allora, ristabiliamo un equilibrio e come fare a ristabilire un equilibrio? Ecco che qui entrano in campo veramente in maniera tangibile anche la valenza delle associazioni. Come dicevo prima, io rappresento con Fattigiano su Imprese che sotto questo aspetto è molto presente e anche molto propositiva. Non ultimo, avete visto anche l'ultima operazione che è stata fatta per il prestito d'uso garantito in oro, un'operazione che viene dallo spirito e dalla iniziativa in particolare di uno dei nostri dirigenti, che è Andrea Boldi, che cura tutto il comparto oro, quindi è presidente anche della consulta oro a Fadiarezzo. Quindi una sua intuizione, essendo lui tra l'altro un membro di quel tipo di attività, che ha innescato chiaramente la possibilità di mettere sul mercato un prodotto, mediando noi come associazione con la regione e quindi con la cosa pubblica, ecco è un esempio di come si possano fare degli interventi e si possano ottenere dei risultati.